Dato che me l'avete chiesto così in tanti, dato che sotto tutti i video di Travis Barker mi avete scritto ti prego parlaci di questo pezzo, ho deciso di parlarvi di questo feel groove intro, un po' di tutto insieme in realtà. E ce ne sto parlando dell'intro appunto, di quando incomincia a suonare la batteria Travis Barker nell'intro dei Blink 182 della canzone Cynical. Praticamente tutti mi avete scritto difficilissima, spiegacela ti prego, non capiamo come funzioni, mi avete scritto in privato perché, quindi ho detto ok va bene faccio un video su quello anche perché comunque ce n'è un bel po' da dire su questa canzone. Quindi oggi appunto vi voglio spiegare come funziona quest'intro di Cynical. E detto questo comunque se qualcuno ancora non conoscesse l'intro della canzone, non conoscesse come funziona ve la faccio sentire, perché questa cosa secondo me ha un po' di spunti molto 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 interessanti utilizzabili sia per suonare questa canzone ma sia in generale per suonare altri pezzi. Quindi in realtà questa canzone non è così difficile, nel senso la difficoltà di questa parte è la velocità. Per il resto non fa cose veramente assurde, non fa cose super super difficili ma comunque dopo ve lo spiego. Prima di partire però io vi ricordo oltre a iscrivervi al canale, andare sui miei social Instagram e Facebook e seguirmi sul canale Telegram, mi raccomando, anche altre due cose. La prima è che c'è il PDF qui sotto, scaricabile gratuitamente eccetera eccetera. La seconda è che sempre qui sotto c'è il link che vi riporta al sito CastTube per la questione live perché molto presto ci sarà una live gratuita dove mi potrete chiedere cose, dove potremmo chattare in diretta. Quindi è una figata, ci mettete un secondo, dovete solo andare sul sito CastTube, registrarvi e poi cliccare iscriviti per poter avere il vostro posto all'interno della live. Quindi parto a spiegarvi la prima parte di quest'intro. La prima parte di quest'intro in realtà non è così difficile, l'unica cosa è che come vi ho detto la velocità fa poi diventare difficile tutto, perché se anziché farlo sul timbano come lo fa lui io vi facessi il groove iniziale su Charles, sono un po' rallentato, sarebbe questa cosa qua. Quindi normalissimo, nel senso quante volte capita un ritmo così nel punk? Tantissime. La cosa strana è che lui lo fa su timpano e rullante e poi ogni tanto va anche a mettergli il tom al posto del rullante, quindi in questo modo qua. Quindi nulla di troppo difficile, tra virgolette, anche se ovviamente come vi ho detto la velocità complica tutto. La cosa importante è fare bene i doppi colpi di cassa, perché una volta c'è colpo singolo, una volta c'è colpo doppio. Quando fate il colpo doppio di cassa cercate di farlo il più potente possibile, cercate di fare più potenti possibili i due colpi usando le tecniche che volete, o la tecnica del tacco punta oppure la tecnica dello slide come utilizzo io. E se non conoscete queste tecniche ho fatto già alcuni video, ad esempio quello su pornoi, il terzo video che ho pubblicato sul canale, lì parlo di come fare la tecnica slide per quanto riguarda la cassa. Poi dopo aver fatto questo groove, in pratica andiamo a suonare tutta una battuta di sedicesimi. Quattro cellule ritmiche da quattro sedicesimi, quindi in tutto fanno una battuta e quindi in tutto abbiamo sedici colpi, in cui metà di questi, cioè i primi otto colpi, saranno il primo colpo sul tom e tutti gli altri colpi sui rullanti, in questo modo. Mentre negli altri otto avremo il primo colpo sul charleston, insieme alla cassa col charleston aperto, poi anziché suonare subito l'altro sedicesimo con la sinistra, quel sedicesimo non lo suoniamo, mentre andremo a suonare tutti gli altri sei sedicesimi rimanenti di nuovo sui rullanti. Quindi in pratica i primi otto sedicesimi e i secondi otto sedicesimi sono uguali, ma nei primi otto li facciamo tutti otto. Invece negli altri facciamo il primo sedicesimo col charleston, il secondo sedicesimo sarà una pausa, e poi tutti gli altri sei sedicesimi di nuovo sui rullanti. Quindi la seconda parte, i secondi otto sedicesimi saranno questo. Tutto insieme suonerà così. Quindi vi faccio sentire tutta questa prima parte, prima lenta poi veloce. Nella seconda parte invece della prima cosa andiamo a suonare un groove abbastanza normale su charleston e rullante. Poi nella parte dopo dobbiamo andare a fare quello che viene chiamato tre su quattro, cioè praticamente andiamo a mettere gli accenti ogni tre sedicesimi anziché ogni quattro sedicesimi. Anziché avere gli accenti one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, avrà gli accenti one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one. Quindi una cosa un po' diversa. Vi faccio sentire. Il groove senza le ghost, che sono la parte più problematica, è questo. E poi dobbiamo andare a mettergli due ghost ogni gruppo di tre colpi, diciamo. Cioè, anziché fare tun, tupa, tun, tupa, tun, tupa, tun, tupa, tun, tupa, dobbiamo andare a mettere anche due ghost. Tupapa, tupa, 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 tupa. Un consiglio importante è quello di non tenere troppo basse le ghost. So che sono molto veloci perché... La mano sinistra deve fare questa cosa, però comunque è importante che si sentano tanto. Se sentite il pezzo originale, che tra l'altro vi lascio qui sotto in descrizione, si sentono tantissimo le ghost. Quindi bisogna farle sentire. Quindi i primi due pezzi che abbiamo visto insieme sono così. Infine l'ultima parte, che è la parte dove non so se sbaglio, se l'abbia fatto apposta, se l'abbia sbagliata, l'abbiano tenuta così, non ne ho idea. Se lo sapete scrivetemelo ovviamente qui sotto nei commenti. Fa tutti i gruppi di tre note con accento ghost, ghost, accento ghost, ghost. Tom, rullante, rullante, ghost. Rullante, accento, ghost, ghost di rullante. E poi l'ultimo accento di rullante e poi basta. Finisce via e poi comincia la canzone. Quindi tutto insieme, suonato lentamente, prima viene questo. Vi rifaccio vedere la stessa parte che ho messo all'inizio, poi ho suonato tutto. Così almeno potete rivedere tutto come funziona. Ve lo faccio. Prima ve l'ho fatto solo veloce. Adesso ve lo faccio vedere di nuovo veloce ma poi anche lento. Così almeno capite bene. Quindi il video finisce qua. Spero di essere stato utile un po' a tutti. Sia a chi non conosceva il pezzo perché magari l'ha scoperto questo pezzo o perché magari ha preso degli spunti anche per suonare altre cose. Sia per chi conosceva il pezzo perché così almeno l'ha imparato e se avrà dei dubbi adesso magari li ha colmati, non lo so. Comunque spero che questo video vi sia stato utile. Se è stato così mi raccomando fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io qui sotto vi ricordo che vi lascio il pdf con questo intro scritto così almeno ce l'avete e mentre vi spiego le robe almeno avete la possibilità di vederlo e provare proprio quello che c'è scritto come noto eccetera eccetera. Se qualcuno non conosce la canzone comunque non vi preoccupate perché in descrizione vi lascio anche il link che vi riporta la canzone originale così almeno la potete sentire, potete sentire l'intro di batteria giusto poi in generale potete sentire tutta la canzone e vi consiglio di sentirla perché è molto particolare dura poco, due minuti, un minuto e cinquanta però è carino, è molto particolare. Detto questo io la finisco qua vi ricordo mi raccomando di iscrivervi alla mia live che sarà tra pochissimo vi lascio tutto ovviamente qui sotto in descrizione c'è un bel po' di roba in descrizione oggi devo dire e oltre questo vi ricordo di iscrivervi al canale di andare sui miei sociali Instagram e Facebook di seguirmi sul canale Telegram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!